Buonasera e bentornati a Focus Tg che è la prosecuzione della nostra lunghissima diretta in edizione straordinaria e da questa mattina che vi stiamo raccontando cosa succede in questo Veneto che si è ritrovato da avere una grande zona rossa al suo interno a essere all'interno di una immensa zona rossa che è diventata l'Italia dopo i decreti di ieri sera. Andiamo immediatamente a vedere quelli che sono gli ultimi dati arrivati dalla regione Veneto sulla diffusione del virus. Abbiamo 913 casi in questo momento in Veneto, sono più 57 sull'ultima rilevazione che era stata effettuata questa mattina. L'aumento più significativo va riscontrato a Padova dove ci sono 34 casi in più, una crescita comunque molto bassa nel resto della regione che conferma che l'andamento non è esponenziale, non è ancora esponenziale e speriamo che non lo diventi perché questo è il rischio che si sta correndo. Andiamo a vedere quali sono i ricoveri e invece anche la situazione della mortalità. Vedete questi questi sono i dati, fa comunque impressione il dato dei 26 morti con coronavirus perché ricordiamo sempre che si tratta di persone decedute con coronavirus e bisognerà aspettare l'esito di tutte le situazioni per capire se il coronavirus sia stato la causa determinante, effettiva o una concausa. Torniamo in studio e andiamo a vedere cosa ha detto oggi il presidente del Veneto, Luca Zaia, che ha incontrato la stampa per fare il punto della situazione. Non è escluso e questa è un'idea che sta circolando e lo dico prendetela come riflessione ma non la trovo tanto barbina come riflessione che piuttosto che protrarre un'agonia che dura mesi sia meglio arrivare a una chiusura totale ben contingentata in maniera tale che si possa bloccare il contagio del tutto. C'è anche questa linea di pensiero, immagino che oggi ne parleremo anche nei prossimi giorni, però è fondamentale pensare che noi dobbiamo isolare il virus. Chiudere tutte le attività commerciali non essenziali ad eccezione di supermercati e farmacie stoppe anche i mezzi pubblici per 15 giorni. E questa è la richiesta che arriva al governo da Veneto e Lombardia e che sarà il centro del confronto nelle prossime ore. Una misura ancora più restrittiva ma ritenuta da Zaia e Fontana necessaria per fermare il contagio. Più ralentiamo il contagio, la velocità di contagio, più respiro abbiamo rispetto alle strutture ospedaliere. La regione in mattinata ha diffuso i dati relativi alle terapie intensive. I 450 posti letto negli ospedali veneti presentano al momento un tasso di occupazione medio dell'80%. 67 di questi sono occupati da pazienti affetti da coronavirus. Da ieri si sono aggiunti altri 48 posti attivati senza bloccare l'attività. Sono poi in allestimento altri 120 di terapia subintensiva aggiuntivi a quelli esistenti. Intanto una boccata d'ossigeno all'attività nei nosocomi arriva dall'articolo 7 del decreto approvato la settimana scorsa e pubblicato oggi. Quello della possibilità di far lavorare tutti i sanitari ma non solo anche i dipendenti per i servizi essenziali che hanno avuto, che sono stati oggetto di contatto con persona positiva ma hanno un tampone negativo e sono asintomatici. Abbiamo già pronto un pronto collo da inviare a tutte le ULS in maniera tale che questi dipendenti siano assolutamente tutelati quotidianamente con tutta una serie di attività che vanno dal tampone alla misurazione della febbre o quant'altro. In Veneto sono 656 sanitari sottoposti a quarantena perché venuti a contatto con pazienti positivi, 165 dottori. Questo decreto che vale anche per i medici di base prevede altro ancora. La possibilità di attivare assunzioni straordinarie rispetto a tutte le professioni mediche, infermieristiche e quant'altro che in questo decreto è previsto non è più un problema il tema dei medici laureati abilitati. Intanto rimane il problema dei dispositivi introvabili. Non ce ne sono, dice Zaia, quello delle mascherine sarà un'emergenza anche nei prossimi giorni. Il mondo intero sta galloppando verso l'ultimo scatolone di dispositivi. Noi abbiamo avuto vicende nelle quali ci offrono materiale inesistente dove ci chiedono il pagamento del 100% prima della spedizione. Dall'altro abbiamo ovviamente competitors a livello internazionale che addirittura riescono a intervenire anche su prodotti che sono già destinati alla nostra comunità o ad altre comunità. Quindi avete sentito il governatore del Veneto Luca Zaia. Da una parte c'è la politica che continua a cercare soluzioni, continua a fare proposte. Non ultima quella di un blocco totale dell'Italia per due settimane per isolare al massimo questo coronavirus. Dall'altra c'è un Veneto che va avanti, che deve andare avanti, ma che si trova di fronte a situazioni davvero inusuali come quella di Venezia. Siamo andati a Venezia a vedere come era oggi una delle città più belle del mondo. Il silenzio è rotto solo dal verso di un gabbiano, dai rumori di un cantiere. Nel pieno dei provvedimenti per contenere il contagio da coronavirus, Piazza San Marco, che accoglie decine di milioni di turisti, appare già a ricordo sbiadito di un tempo remoto. Ora è possibile persino sentire i propri passi. È l'incontro più frequente con agenti di polizia municipale e di Stato, carabinieri, militari, guardie giurate, a presidio di una piazza che non solo è quasi completamente vuota, ma è completamente chiusa a partire dalla Basilica di San Marco e dal Palazzo Ducale. Alla fine della piazzetta, dopo le colonne con le statue del leone di San Marco e di San Teodoro, davanti al bacino un unico gondoliere attende in vano l'arrivo di qualcuno. Da quanto tempo è che non fa un giro in gondola adesso? Che non arriva qualcuno a fare un giro in gondola? Da giorni. Da giorni addirittura? Sì. Quanto si può resistere in questa situazione? Molto poco. Molto poco. Sotto le procuratie una lunga serie di saracinesche abbassate. Molti hanno la scritta chiuso per ferie. Pochi, pochissimi negozi hanno deciso di rimanere aperti comunque. Chiusi anche locali storici come il Caffè Florian. Attraversando la piazza però sul lato opposto, tra file di tavolini vuoti, c'è chi ha fatto un'altra scelta. In questo momento siamo qui che tutti cerchiamo di dare quello che è il nostro pubblico servizio e siamo aperti a bassi giri, bassissimi giri per dare un minimo di servizio perché si chiudiamo tutti quanti e diventa tipo a Cerno, bene, questo non vogliamo. Quanto si può resistere in questa situazione? Direi poco, direi poco perché le nostre strutture sono strutture abbastanza complesse, personale molto e quindi bisogna fare delle pellutazioni un po' più ampie. A sorpresa si materializza la categoria fino a ieri più frequente e oggi quasi totalmente scomparsa. La coppia di turisti arriva dall'Inghilterra, ama Venezia alla follia e mai avrebbe rinunciato a venire qui. Questa, dicono, è una tragedia che arriverà presto anche nel Regno Unito. Avete visto le immagini di una Venezia decisamente diversa dal solito, però ci sono anche altre situazioni a Venezia come quella di tensione e di rivolta che si è creata all'interno del carcere di Santa Maria Maggiore. La paura che si diffonda il coronavirus in una struttura in cui sono rinchiusi 268 detenuti sui 159 previsti. La sospensione dei colloqui con i familiari all'interno dei penitenziari, sempre per prevenire il contagio, sostituita con videochiamate e telefonate. Come è accaduto altrove in Italia, la rivolta alla fine è scoppiata anche all'interno del carcere di Santa Maria Maggiore a Venezia. Fuori si è sentito prima alcuni detenuti battere le gamelle, i recipienti per il cibo, sulle inferriate alle finestre, come peraltro era già accaduto recentemente. Questa volta però, poco dopo, si sono iniziate a vedere anche delle fiamme. Forze dell'ordine in tenuta antisommossa hanno circondato l'edificio e blindata tutta l'area. La vicinissima piazzale Roma è stata temporaneamente chiusa alla circolazione. Attorno, sulle prime, un po' di confusione tra esercenti e passanti che vedono solo tante forze dell'ordine, polizia, carabinieri, guardia di finanza ed esercito. Per precauzione in diversi abbassano la saracinesca. In fretta e furia vengono tirati dentro i tavolini di un bar nei paraggi. Il sindaco di Brugnaro di passaggio si ferma a monitorare la situazione. Le strade, peraltro, sono semideserte a causa dei provvedimenti di contenimento del coronavirus. Un elicottero sorvola l'area. Arrivano anche i vigili del fuoco e vengono attivati gli idranti. La rivolta riguarda i detenuti di un padiglione ed è circoscritta. Diversi i danni subiti dal carcere, ma nessuno risulta evaso. I controlli erano stati potenziati anche lungo il ponte della libertà, ma già attorno alle 16, circa due ore dopo lo scoppio della rivolta, la situazione si andava gradualmente normalizzando. E sulle ripercussioni che l'emergenza coronavirus può creare in una comunità molto particolare come quella di un carcere, abbiamo sentito il cappellano della casa circondariale di Padova. Le ultime ore tutti gli atti di violenza, le varie proteste che si sono verificate in tutta Italia. Anche qui c'è stato un po' di protesta, però la situazione è veramente sotto controllo. C'è stato un continuo dialogo con la popolazione detenuta da parte dell'amministrazione, della direzione. Da parte mia c'è stato un interesse continuo proprio anche nei dialoghi con i detenuti stessi. Loro stanno bene. Sembra essere rientrata la situazione di emergenza all'interno del carcere due palazzi di Padova e anche nella casa di reclusione circondariale. Qualche momento di tensione si era vissuto domenica sera quando alcuni detenuti si erano barricati e avevano dato fuoco a dei materassi per protestare contro il divieto di colloqui a seguito dell'emergenza coronavirus. In queste ore è stato fondamentale il lavoro dei cappellani, delle due strutture penitenziarie e dei volontari. Anche la diocesi stessa si è mossa per dare un contributo per ricaricare le schede telefoniche di meno ambienti. Lo abbiamo fatto ieri e quindi abbiamo cercato di rispondere alle richieste e ai bisogni primari più urgenti per rassicurare proprio la popolazione detenuta e per favorire un clima sereno all'interno dell'istituto. Intanto Papa Francesco in una lettera inviata al quotidiano il mattino di Padova si è rivolto proprio ai detenuti annunciando che le meditazioni della sua via Crucis arriveranno dalla parrocchia del carcere Due Palazzi. Il Santo Padre riferendosi all'epidemia del coronavirus ha sottolineato anche in questi momenti Dio ci sta parlando e ha rivolto poi un appello alla responsabilità e alla collaborazione con le apposite autorità competenti. Due concetti che Papa Francesco definisce insieme alla buona volontà un valore aggiunto di cui il mondo ha estremo bisogno. Chiudiamo questa pagina dedicata prima a Venezia e poi alla situazione carceraria legata all'emergenza coronavirus e andiamo a sentire il polso degli amministratori pubblici. Sentiamo cosa ci dice Francesco Rucco, sindaco di Vicenza e presidente della provincia di Vicenza, raggiunto dal nostro Carlo Alberto Inghilleri. Buonasera, buonasera a tutti i telespettatori. Ci troviamo qui a Palazzo Trissino nella sala della Giunta con il sindaco e presidente della provincia di Vicenza, Francesco Rucco. Come vedete teniamo la distanza droplet di un metro. Bisogna che tutti assumiamo delle cautele straordinarie rispetto alla nostra vita solita, però sicuramente i contagi stanno aumentando, quindi bisognerà stringere ancora di più, dare una stretta ancora maggiore alle pratiche quotidiane. La misura adottata dal governo è una misura assolutamente restrittiva. Lo scopo è quello di contenere la diffusione di questo virus. Lo possiamo solo fare rispettando queste regole restrittive. Ci sarà un periodo di sacrificio da parte di tutti, ma un invito veramente a farlo, perché facendo così riusciamo ad aiutare quei sanitari che in prima linea stanno combattendo per contenere la malattia, per guarire le persone e per farle tornare a una vita normale. Per tornare a tutti a una vita normale è importante che con serenità si rispettino le regole, quindi meno aperitivi, meno cene e più famiglia, più affetti personali, casa, stiamo a casa, godiamoci i nostri figli, i nostri genitori e stiamo in compagnia a loro. Senta, facciamo il punto della giornata, quali sono le novità? Le novità sono quelle assolutamente più restrittive, la chiusura di bar e ristoranti alle 18 di sera innanzitutto, soprattutto la chiusura di palestre e di piscine che erano rimaste aperte, la limitazione su alcuni mercati, adesso vedremo in che termini, e soprattutto poi un'organizzazione di servizi sul territorio che possono aiutare quelle persone fragili, in particolare gli anziani e i disabili, che possono avere un aiuto. Quindi anche un appello da questo punto di vista a guardare al vicino, che magari vive da solo, se ha bisogno di qualcosa, se ha difficoltà a uscire per acquistare semplicemente i generi elementari e dare una mano da questo punto di vista, è importante. Quali sono le iniziative che adesso voi come Comune state attuando, soprattutto a partire da oggi c'è la chiusura di tutta l'Italia? Sì, noi stiamo attuando sicuramente dei controlli per capire se la gente rispetta le prescrizioni, questo è essenziale. Abbiamo fatto un periodo di informazione per capire quali sono le responsabilità a cui si va incontro. Dall'altra, naturalmente, con la fase dei controlli c'è anche la limitazione dei servizi, abbiamo ridotto i servizi comunali, ad esempio, solo su appuntamento, quindi lo invito a venire in Comune di Vicenza solo se estrettamente necessario, anche per tutelare le persone che ci lavorano e le persone stesse che vengono gli utenti e i servizi sociali appunto che stanno organizzando una rete di supporto alle fragilità, alle persone in difficoltà per aiutarle eventualmente a fare la spesa e avere un pasto caldo. Ci sono provvedimenti in arrivo? Ci sono provvedimenti di natura amministrativa riguardo all'organizzazione, soprattutto poi stiamo per aprire il COC, che è il centro comunale dell'emergenza, che attiverà alcuni servizi specifici come quello della protezione civile, dell'assistenza alla popolazione, la parte sanitaria e la parte comunicazione, che permetterà di tenere informati i cittadini H24. Ha contatti con l'Ulss 8 Berica per capire la tenuta del sistema sanitario qui a Vicenza? Allora, su questo vorrei tranquillizzare i vicentini che sia l'Ulss 7 che l'Ulss 8 sono in contatto con tutti i sindaci. Per l'Ulss 8 in particolare abbiamo un contatto più volte al giorno quotidiano e quindi ci stiamo informando. I casi stanno aumentando, non è un aumento ancora esponenziale, è tutto sommato controllato, i posti di letto ci sono le risposte, ci sono e è chiaro che dobbiamo prepararci a una fase magari più acuta, più elevata e su questo sarà importante fare prevenzione e quindi avere senso di responsabilità nel rispetto delle regole imposte. Io ringrazio il sindaco di Vicenza, Francesco Rucco, lo lascio andare, ormai è sera, ha avuto una giornata intensa, importante e quindi domani si ricomincia, domani ci ritroveremo poi qui per fare un altro punto della giornata in modo da informarvi in tempo reale, ora per ora, giorno per giorno. La linea intanto può tornare allo studio. E quindi se da una parte gli amministratori cercano di gestire al meglio l'emergenza, ci sono anche delle ricadute già molto gravi per l'economia. Oggi la regione si è seduta al tavolo con le categorie produttive. Abbiamo necessità di avere una legge di copertura su questo e dall'altra abbiamo il problema delle risorse vere e proprie da destinare agli ammortizzatori sociali. Il fabbisogno per il Veneto è di oltre 200 milioni. La crisi innescata dal coronavirus è molto più ampia di quello che appare. Non riguarda solo il turismo, alberghi, negozi, bar e ristoranti o il comparto della cultura e dell'intrattenimento, teatri, cinema, musei obbligati alla chiusura. Ci sono persino aziende che rischiano di rimanere ferme perché dall'estero non arriva la componentistica necessaria. L'assessorato regionale al lavoro si sta muovendo di concerto con le categorie economiche e produttive Venete e il governo. Noi stiamo ragionando degli ammortizzatori sociali in deroga, cioè tutti quei settori e quei soggetti che non sono coperti da ammortizzatori sociali devono avere un paracadute. Un paracadute che ha due limiti però. Il primo è che il decreto legge lo prevede per un mese solo. Un mese solo è decisamente inutile. Il secondo è il limite che hanno dato per esempio per aiutare i lavoratori autonomi con quei 500 euro al mese per tre mesi, in questo caso ma solo per la zona rossa. Il discorso non riguarda però solo Roma. Anche Bruxelles è chiamata in causa. L'Unione Europea deve infatti necessariamente intervenire in un ambito che non può essere fronteggiato da un singolo Stato nazionale. Noi diamo, versiamo alle casse della Comunità Europea più di quello che ci viene restituito. Quindi noi avremo già un credito. Dall'altra noi abbiamo delle risorse oggi che sono nella disponibilità per esempio della regione del Veneto. Sono 58 milioni di euro per gli ammortizzatori sociali frutto di una oculata gestione degli anni passati. Ma è evidente che con l'impatto che sta avendo è insufficiente. Adesso cominciamo a sentire il punto con i vari direttori generali e in questo caso il commissario dell'Ulss 7, Pede Montana Bortolo Simoni, che ci dice qual è la situazione nell'area di competenza. Da ieri è istituito un coordinamento regionale delle terapie intensive cappeggiato dal dottor Rosi e noi comunichiamo, ogni azienda comunica, il fabbisogno diciamo di letto di intensiva e di semi-intensiva e ci sarà un coordinamento per dove andare ad allocare. Quindi noi potremo avere la necessità di mettere a disposizione i letti nostri anche per altre realtà e viceversa i pazienti nostri potranno essere presi da altre aziende. Quindi c'è una forma di rete che ha l'obiettivo di tenere. Evidentemente stanno arrivando anche macchine, sono arrivati due respiratori nuovi ieri a Bassano. Quindi abbiamo anche previsto un livello in più, più pessimistico che prevede un ulteriore step di utilizzo di altri spazi per realizzare tra virgolette delle terapie intensive un po' estemporanee. Però speriamo di non doverlo utilizzare. Quanto è utile quest'ultimo DPCM che dice state a casa? Secondo me è utilissimo. Se devo dirla io da igienista e da medico quale sono è ancora morbido perché di fatto ci muoviamo per lavoro. La differenza grossa tra il modello italiano e il modello cinese è stata proprio questa. Che in Italia si continua a lavorare e a spostarsi per motivi di salute o per inderogabili necessità, mentre la Cina aveva fatto una scelta più radicale del tutti a casa, diciamo, vero, quindi nemmeno al lavoro. Però credo che sia l'unico modo per rallentare la circolazione delle persone, sia l'unico modo per rallentare la circolazione del virus. Questo era Bortolo Simoni, commissario dell'Ulss 7 Pedemontana. Andiamo invece a sentire Francesco Benazzi, direttore generale dell'Ulss di Treviso. Oggi invece abbiamo 3-4 casi di persone che sono in terapia intensiva e noi ci auguriamo poi che ne escano dalla terapia intensiva, che potrebbero essere le polmonitiche loro anne associate direttamente al Covid-19. Persone sotto i 60 anni. Sono in condizioni direi severe, ma che noi ci auguriamo, grazie anche alla forza, all'aiuto e a quello che stanno facendo i nostri operatori, che riescano a superare questo periodo difficile ed uscire dalla terapia intensiva. La conferma arriva direttamente dal direttore Francesco Benazzi. Il Covid-19 sta colpendo anche soggetti giovani, under 60, che proprio a causa del virus hanno sviluppato problemi respiratori gravi. Quanto ai decessi continuano a riguardare principalmente persone anziane con quadri clinici complicati e già compromessi, la novità semmai sta nel fatto che non si tratta più soltanto di ex ricoverati nella geriatria del cafoncello. Abbiamo altre persone che ovviamente non fanno parte della classe della geriatria, che arrivano dai territori e quindi sono da studiare, da verificare, da capire se c'è stato un contagio ed è la causa del contagio diretto del Covid-19 oppure se vanno a sommarsi anche le patologie che le persone hanno. Questa quindi l'evoluzione del contagio nella marca, dove è spento il focolaio della geriatria, resta una situazione a macchia di leopardo. C'era quello della geriatria che abbiamo come dire spento, poi si stanno creando piccolissimi focolai di 4-5 persone, qualcosa tra Orsago, Sanfior e Caneva e qualcosa nell'area diciamo alta dell'Asolano. Però tutte cose che stiamo comunque controllando benissimo grazie al nostro settore di igiene pubblica e il lavoro che fanno i nostri collaboratori di igiene pubblica. Insomma il sistema per quanto sotto stress tiene assicura Benazzi che in queste ore ha incontrato il personale degli ospedali della marca, dove presto saranno attivati altri due posti di terapia intensiva, uno a Derzo, l'altro a Montebelluna, che si aggiungeranno ai 49 attuali del sistema trevigiano. Nel frattempo l'appello è sempre lo stesso. Se non avete cose da fare importanti e urgenti state a casa, che a casa siete tranquilli e siete sicuri. State a casa come diceva il direttore generale, state con noi, andiamo in pubblicità, ci vediamo fra pochi minuti.